Bentornati nel canale La Vita Curiosa. Prima di iniziare questo nuovo video clicca su Mi Piace e iscriviti al nostro canale. Benvenuti nel meraviglioso mondo delle notizie, dove un'emozione travolgente sta per catturare i vostri cuori. L'affascinante e talentuosa Caroline Smith, nota giurata di Ballando con le stelle, sta per svelare un capitolo toccante della sua vita. Dopo un periodo di silenzio sui social media, Caroline ha scelto di condividere un messaggio toccante direttamente dall'ospedale, rompendo il silenzio con la sua voce determinata e coraggiosa. In questo video, Caroline Smith condivide apertamente notizie riguardanti il suo stato di salute. Un nemico temibile, il cancro, è tornato nella sua vita per la terza volta. Questo annuncio ha sconvolto i suoi fani ammiratori, ma la forza interiore di Caroline è evidente nel suo messaggio. La sua voce trasmette determinazione. Coraggio e la volontà di affrontare nuovamente questa battaglia con tutto se stessa. Caroline Smith non è certo uno spirito incline alla resa. Con uno straordinario messaggio di forza e resilienza, ha dichiarato «Non è stato il mio periodo migliore, ma non ho mai pensato di arrendermi. Come sapete, non mollo mai nella battaglia contro il cancro». Queste parole sono un faro di ispirazione per tutti coloro che seguono la sua carriera e ammirano la sua personalità straordinaria. Questa non è la prima volta che Caroline si trova ad affrontare questa difficile sfida. Nel 2015 le fu diagnosticato per la prima volta un tumore al seno. Dopo una battaglia coraggiosa e vittoriosa, la malattia ha dimostrato di essere un avversario tenace, riapparendo in due diverse occasioni. La strada della chemioterapia è stata la sua scelta per affrontare questa recidiva, dimostrando ancora una volta la sua tenacia e il suo spirito combattivo. Le parole di Caroline riflettono un messaggio di speranza profondo e autentico. Afferma che a volte è necessario toccare il fondo per trovare la forza di risorgere con nuove idee e una nuova energia. A volte devi toccare il fondo per rilanciarti e ripartire con nuove idee e nuova energia, afferma Caroline. Queste parole incarnano il suo spirito indomabile e rimangono impresse nei cuori di chiunque le ascolti. Caroline Smith invita tutte le donne a riflettere su se stesse, a sorridere allo specchio ogni mattina e a trovare gioia nei piccoli momenti. Ogni nuovo giorno è un dono da vivere appieno, nonostante le sfide. Il suo messaggio trasmette una potente lezione. Non arrendersi mai, combattere con determinazione e scoprire la bellezza nella vita nonostante le avversità. Lasciate un commento alla fine del video per condividere i vostri pensieri e rimanete sintonizzati per ulteriori aggiornamenti. Grazie per averci seguito e state pronti a ispirarvi ancora di più con le prossime storie che vi presenteremo.